le persone in italia decidono di fare impresa fondamentalmente per realizzare un sogno il sogno di essere liberi il sogno di avere tempo il sogno di avere più denaro ma alla fine la triste realtà è che ci si ritrova schiavi della propria azienda alcune volte a guadagnare meno dei propri dipendenti a non avere più una vita perché uno dice metto su un business per far crescere i miei figli in modo migliore per dargli qualcosa in futuro ma alla fine ti ritrovi che tuo figlio è in fasce compie 18 anni e tu ti sei perso tutta la sua vita quindi l'imprenditore è la persona che meno di molte altre ha la possibilità di gestire il proprio tempo siccome in italia non esiste la vera e propria scuola per diventare imprenditori smart business hub ha deciso di costruire un metodo che ha già testato su più di 2000 imprenditori che è riuscito a ridonare il tempo alle persone perché prima dell'imprenditore c'è la persona è riuscito a far costruire di business veramente scalabile cosa ti dicono gli imprenditori cioè vengono da voi e qual è il tema più grosso che hanno ok il tempo allora il tema più grosso che hanno è sicuramente il tempo ma c'è anche un tema tutto italiano come lo faccio io non lo fa nessuno questo è un po il pensiero dal quale vogliamo iniziare questa nostra conversazione fare l'imprenditore vuol dire essere prima di tutto la persona generosa perché l'imprenditore è la persona che ha l'intuizione la visione che costruisce la strategia ma in fondo al suo obiettivo sono i dipendenti che lo accompagnano quindi se tu non hai la generosità da imprenditore di condividere la tua visione di ingaggiare le persone di coinvolgere di farle crescere sarà altamente improbabile che tu possa strutturare un'azienda un business che scala ma sarà più probabile che tu ti ritrovi ad accentrare su di te tutte le attività che nella maggior parte dei casi non so fare marketing non so fare le generation non so vendere non mi occupo di contabilità non mi occupo di gestione finanziaria e quindi ad un certo punto molto prima che dopo il business si ferma e iniziano i problemi. Quindi diciamo che l'imprenditore italiano mediamente si improvvisa un tuttofare e ha un problema grosso con la delega. Sì il problema della delega è il problema che parte dal concetto di fiducia. Innanzitutto per delegare bisogna educare una delle cose che non vengono fatte in Italia. Vasti pensare al problema principale che oggi viene sollevato il problema dei dipendenti tutti si lamentano però alla fine facciamoci delle domande. Prima di tutto voi siete anche esperte in questo. Primo come lo cerchi dove lo cerchi come lo trovi? Chi lo seleziona un dipendente? Sei tu che lo selezioni? A che titolo lo selezioni? Tu puoi dare delle caratteristiche delle competenze che desideri? Puoi dare eventualmente la percezione che vuoi dare a questa persona che entra in azienda perché preservi i valori della tua azienda ma non sei un cercatore di teste. Secondo quando arriva un dipendente in azienda tu cosa fai? Eh domani mattina ci vediamo ti metti di fianco a lei che ti dice come si fa. Ma quella persona magari fa quel lavoro da vent'anni ovviamente inclina tutti gli errori dell'abitudine e non è un vero proprio apprendimento non è un onboarding vero. La persona viene catapultata in un'arena ma senza dargli gli strumenti. La procedura che è il vero strumento che per poter accedere alla delega è quella forma di educazione che aiuta le persone innanzitutto ad automatizzare le attività più banali perché noi alcune volte non diamo valore alle persone che paghiamo per lavorare ma le mettiamo a fare le cose base le cose che potremmo tranquillamente rendere automatiche non per l'intervento di una macchina ma perché possono essere procedurizzate. La procedura che cos'è? E' una cosa che collega la persona all'azione? Chi fa cosa? Finisce la cartuccia del toner? Panico in azienda? Alla fine chi la cambia? Boh l'imprenditore che si rompe le palle di un certo punto la cambio io perché sennò non devi più cambiare. Non va bene così. Che poi Elisabetta ho pensato una cosa l'imprenditore che non si fida e quindi dice no io non delego perché non mi fido. In realtà lui stesso comunque va a cimentarsi in un mestiere che di fatto non sa fare però in quel caso nessuno gli deve dare fiducia ma magari investitori o comunque colleghi collaboratori quindi in realtà lui stesso si mette lui o lei in una situazione che non sa fare e la fa si butta in qualche modo fa. E quello te ne riescono altri no. Ma allora innanzitutto tu dici giustamente c'è molta improvvisazione questo è il motivo per il quale aziende come la nostra hanno grande successo perché c'è una reale necessità e la reale necessità ha bisogno di due cose. Primo di un percorso da seguire la strada tracciata da qualcuno che c'è già passato perché l'imprenditore che aiuta l'imprenditore nel nostro caso la promessa è da imprenditore a imprenditore. Conosce tre dinamiche importanti. La prima è la dinamica emotiva. Quando sei nella merda non dormi la notte. E cosa fa? Non riesci più a stare vicino ai tuoi figli non riesci più a relazionarti bene con la persona che è accanto e quindi lo sai come ti senti. se lo ricorda l'imprenditore che ti accompagna attraverso il nostro metodo e lo sa bene l'imprenditore che ha bisogno di aiuto. Due il metodo è qualcosa che funziona se applicato ci vuole costanza ci vuole la quotidianità che è una nuova educazione è un nuovo modo di fare le cose visto che prima non ti dava un risultato prova un modo nuovo e vedi che le cose possono cambiare. Come le ricette no? Esattamente. E terzo l'operatività. L'imprenditore è la persona che ti sa insegnare a mettere le mani dove devi che nel mondo dell'azienda è la leadership l'area nella quale l'imprenditore deve impiegare la maggior parte delle sue forze. Questo consente all'imprenditore di fare il suo lavoro capendo qual è il lavoro dell'imprenditore.